Una punizione d'altri tempi per la cantante Britney Spears. La regina del pop dovrà leggere la Bibbia per almeno un'ora al giorno al fine di rinsaldare i propri traballanti principi morali. La condanna, scrive il Daily Mail, le è stata imposta dal padre Jamie che cura anche gli interessi economici della turbolenta cantante. Jamie ha fissato per la figlia una serie di rigide regole di comportamento, onde vitale che prenda una delle solite sbandate nel corso del suo ciclo di esibizioni, il tour Circus Starring Britney Spears. La fonte citata dal Daily Mirror riferisce che Jamie è decisa a far sì che nulla vada storto durante il tour di Britney, perciò la obbliga a leggere la Bibbia per almeno un'ora prima di andare in scena e le ha vietato di navigare su internet. Sorveglia anche quello che mangia per evitare che ricada nelle tentazioni del cibo spazzatura. Tentazione che l'ha fatta presentare visibilmente sovrappeso sulle scene. Britney non può inoltre uscire dall'albergo se non è accompagnata dalle guardie del corpo e non può parlare con l'ex marito Kevin Federline se non in presenza del padre o del manager.